Prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi andremo a vedere le istruzioni di iterazione ovvero i cicli quanti sono come si differenziano per cosa si usano e via dicendo i cicli sono generalmente tre eccetto per alcuni linguaggi che fanno appunto da eccezione e che ne possiedono uno in più oppure uno in meno dipende adesso dal linguaggio che si sta utilizzando in generale sono tre quelli base ovvero il for il while e il do while questi tre cicli si differenziano in due categorie i precondizionali e i post condizionali nei precondizionali mettiamo il for e il while mentre nei post condizionali mettiamo il do while che cosa cambia? in pratica come avevamo visto nella istruzione di selezione if la condizione è posta all'inizio prima di eseguire le istruzioni contenute all'interno del blocco e quindi nei precondizionali la condizione è posta nuovamente all'inizio prima delle istruzioni mentre nella post condizionale verrà posta dopo apriamo al go build e facciamo adesso qualche esempio a livello pratico i cicli ci consentono quindi di ripetere un tot di istruzioni che al loro interno possono essere di qualsiasi tipo ovvero input output assegnazione anche strutture di selezione e di iterazione quindi quando si utilizzano cicli all'interno di altri cicli si sta parlando di cicli annidati quindi è consentito utilizzare tutto all'interno dei cicli come lo era anche per gli if anche un if può contenere un ciclo che sia while, do while o for dunque in alcuni programmi è richiesta anche una combinazione di tutte queste strutture ma che vedremo a fine playlist con determinati esercizi che andrò a svolgere adesso facciamo un esempio dove richiediamo all'utente di inserire un numero n di valori che dovrà inserire in input alla fine quando avrà inserito quegli n numeri che ponendo esempio dovrà inserire tre numeri verrà richiesta in output la somma totale quindi new input e mi viene richiesto int n che sarebbe la quantità dei numeri se volete potete essere un pochino più chiari andando a creare il commento che mi sono non dimenticato ma che l'ho ritenuto un pochino superfluo semplicemente il commento sono delle istruzioni che non vengono eseguite durante il programma ovvero quando l'algoritmo parte non vengono eseguite come istruzioni quindi io posso scrivere una qualsiasi cosa che quando il mio codice viene letto da una persona esterna può magari capire meglio il funzionamento del mio algoritmo io consiglio sempre di andare a utilizzare molto spesso i commenti perché possono essere molto utili nel caso appunto si vadano a utilizzare variabili di questo tipo dove n non possiamo capire subito che cosa si riferisca con un commento possiamo dire che n è il numero dei numeri da inserire e quindi quando lo leggo n è il numero dei numeri da inserire riuscirò a capire appunto che cosa significhi n comunque proseguendo inseriamo n diciamo che la somma dovrà essere uguale a 0 inizialmente perché non avrò ancora inserito dei numeri e avviamo il ciclo ora tra questi tre for while do while prenderò il while dopo capirete a cosa serve il for nel dettaglio il while e il do while ma partiamo appunto con il concetto di ripetere le determinate azioni all'interno del suo blocco quindi avviamo col while e all'interno ci mettiamo come avevamo fatto per l'if una condizione che dovrà verificarsi che il numero sia maggiore di 0 quindi fino a quando n è maggiore di 0 proseguiremo a ripetere il nostro ciclo come vedete infatti nel caso dovesse essere vera questa condizione lui eseguirà variazioni di cui appunto mettiamo un attimo un assegnamento così eseguirà tutto ciò che deve eseguire e alla fine non proseguirà come vedete c'è un piccolo spazietto ma ritornerà all'inizio per ripetere di nuovo la condizione nel quale se sarà vera continuerà se sarà falsa uscirà dal ciclo e proseguirà con l'algoritmo e qua ci andiamo già a mettere output somma ora cosa andiamo a mettere all'interno del nostro ciclo come ho detto prima quindi andiamo a mettere i valori quindi input int valore dopodiché andremo appunto ad aggiornare la somma quindi somma uguale somma più valore così da sommare ogni numero che noi andremo a inserire all'interno del nostro ciclo e infine una condizione che ci servirà per uscire dal ciclo state un attimo attenti come vi ho detto nella prima lezione un algoritmo deve iniziare e finire non può fare altrimenti pertanto una condizione se è sempre vera quindi non risulta mai essere falsa e non esce dal ciclo per continuare come vedete potrebbe creare un loop infinito che non ci porterebbe mai alla fine e questo sarebbe a dir poco un disastro per il nostro programma pertanto dobbiamo far sì che il nostro ciclo prima o poi diventi falso in questa maniera nella nostra logica che stiamo utilizzando noi per esempio poniamo che n sia per esempio 3 ovvero io andrò a inserire 3 numeri ma come faccio a capire quando ho inserito 3 numeri come deve uscire in pratica n abbiamo detto che inizia con 3 quindi 3 è maggiore di 0 è vero mi chiederà in input il valore e dopo di che aggiornerà la somma ma qui dovremo fare un'azione particolare diminuire n di un valore e in pratica a livello logico succede questo noi iniziamo il nostro ciclo con 3 maggiore di 0 che risulta essere vero e quindi inseriremo un nostro valore che sarà x dopodiché appunto diminuirà n di un valore perché l'abbiamo inserito tornerà nuovamente a richiederci la condizione dove 2 sarà maggiore di 0 perché 3 meno 1 fa 2 quindi è vero inseriremo un altro valore x lui proseguirà ripetendo tutte queste istruzioni che contiene il suo blocco reinizierà nuovamente verrà diminuito il valore di n dove sarà 1 1 è maggiore di 0 quindi è vero inseriremo un altro valore x alla fine quando diminuirà ancora il suo valore diventerà quindi 0 maggiore di 0 è un'affermazione falsa pertanto non metteremo alcun valore x ma scriveremo direttamente la somma perché uscirà dal ciclo e andrà in somma detto ciò noi possiamo anche avviarlo adesso partiamo come vi ho detto il commento viene tranquillamente saltato nei linguaggi generalmente lo si può identificare in vari modi in questo caso viene indicato col doppio slash ogni linguaggio più o meno ha la sua tipologia di segnalazione viene richiesto in input il numero n quindi valore dei valori da dover inserire e noi abbiamo detto che inseriamo il 3 come esempio qualcuno di voi si potrebbe anche chiedere eh ma io sono libero anche di andare a inserire il valore negativo e in questo caso qui non avrei alcuna somma infatti somma è 0 e pertanto non avrei eseguito la vera richiesta del computer ovvero inserire un numero dei numeri positivo così da richiedermi una somma che alla fine sia diversa da 0 ma ci torneremo dopo con il ciclo di while nel frattempo poniamo un attimo che l'utente inserisca un numero positivo somma sarà uguale a 0 entra il nostro ciclo dove appunto viene posta la condizione se 3 è maggiore di 0 e in questo caso come ho detto è vero inseriamo ora i valori io ho inserito 8 la somma quindi aggiornerà ad 8 proseguiamo ed n sarà diminuito al valore 2 come vi avevo spiegato andiamo ancora avanti perché la condizione risulta essere ancora vera se magari vi facilita provate un attimo a vedere qua sopra che appunto ripete le istruzioni in questo blocco inseriamo un altro valore inserisco il 4 la somma diventerà 12 e la variabile n risulta essere 1 inseriamo un ultimo valore 9 la variabile somma avrà come valore 21 e la n risulterà uguale a 0 ora 0 maggiore di 0 come vedete è falso esce dal ciclo e ci mostrerà la somma in output che è il 21 ora come vi ho detto esistono anche altri due tipi di cicli questo è il ciclo while esiste il for esiste il do while partiamo un attimo dal for perché è il cugino o meglio il fratellastro del while il for funziona in una maniera leggermente diversa anche lui ha la funzione di andare a ripetere un blocco di azioni più volte ma si differenzia con una struttura differente ovvero ha bisogno di un contatore che sarà la variabile che inizializziamo all'inizio una condizione e un aggiornamento in pratica è quello che abbiamo fatto noi a fine del ciclo while come vi ricordate n è uguale n-1 in quel caso lì noi aggiorniamo il valore della variabile nel for invece è un pochino più pratico perché ce lo fa inserire all'inizio l'inizializzazione di una variabile contatore è quella variabile che appunto verrà utilizzata nella condizione quindi io posso andare a impostare che i è uguale a 0 generalmente le variabili contatore sono delle lettere singole come i, j, k insomma sono variabili che come vedete serviranno nel nostro conteggio perché andrò a mettere che i è minore di n quindi 0 è minore di 3 o se volete possiamo scriverla in questa maniera così che sia simile alla condizione precedente e dopodiché i più più i più più è una sintassi abbreviata nel quale significa i uguale i più 1 mentre i meno meno significa i uguale i meno 1 andiamo a rimettere quindi di nuovo input valore somma uguale somma più valore valore e in questo caso non ci servirà andare a mettere l'ultima azione come abbiamo visto l'assegnazione di i uguale i più 1 perché l'abbiamo già fatto qui ora la logica si inverte leggermente ma non abbiamo il problema perché n continua a essere 3 solo che adesso piuttosto di decrementare n aumenteremo il valore di i quindi sarà 3 maggiore di 0 quindi n maggiore di i vero inserò il valore x 3 maggiore di 1 è vero perché appunto la nostra variabile i aumenta di un valore 3 maggiore di 2 e quando arriverà 3 maggiore di 3 risulterà falso quindi non cambia nulla se io opero diminuendo o incrementando un valore basta solo che la mia condizione prima o poi risulti falsa avviamo il nostro algoritmo input richiesto ora chiediamo 2 così per essere un pochino più veloci la condizione risulta vera chiediamo in valore il 5 lui farà la somma scusatemi avevo sbagliato non algobild non mi permette di utilizzare il linguaggio abbreviato quindi i più più non me lo permette di utilizzare mi fa utilizzare i uguale i più 1 ma comunque il discorso non cambia perché sappiate che quando studierete i linguaggi che vi permetteranno di fare l'abbreviazione i più più e i meno meno potete comunque farlo con qualsiasi variabile il discorso funziona è algobild che al momento non me lo supporta pensavo di sì e speravo di sì comunque vabbè ho dovuto un attimo ripeterlo avevo inserito il valore 5 i quindi è stato incrementato di 1 inseriamo un altro valore e mettiamo il 6 lui continuerà a fare la sua somma dove appunto diventerà 11 ora i è stato incrementato a 2 ed è uscito dal ciclo e ci mostrerà la somma quindi 5 più 6 11 come vedete il while e il for sono simili eccetto un pochino per il metodo di dichiarazioni iniziali dove qui abbiamo un contatore mentre nel while no qua abbiamo anche l'aggiornamento e nel while invece va messo alla fine ma quando è che si utilizza un while e quando si utilizza un for bene o male non c'è una vera e propria distinzione ovvero un programmatore va a scegliere quello che più ritiene adatto per il proprio programma ma una corretta filosofia potrebbe benissimo essere quella dove il while si utilizza per un numero di operazioni che il programmatore non conosce mentre il for è più un ciclo che andrà a gestire determinati argomenti che guarderemo in futuro come i vettori e capirete benissimo il perché andrà a gestirli meglio rispetto a un while in maniera anzi è comoda come cosa perché in realtà non cambia niente sappiate che con tutti e tre i cicli quindi col for while e do while possiamo fare le stesse identiche cose utilizzo il while in un determinato modo ma nello stesso identica maniera posso usare anche il for o anche il do while non cambia nulla ma come ho detto adesso prendete un attimo con le pinze il while è un ciclo dove il programmatore non sa quante volte andare a ciclare determinate azioni mentre il for è un pochino più cosciente sotto questo aspetto ma tra i due comunque non c'è alcuna differenza a livello di utilizzo infine arriviamo al vero e proprio cugino ovvero il do while che è l'unico post condizionale che troviamo il do while è utilizzato generalmente per fare dei controlli di inserimento noi prima c'eravamo un attimo impanicati nel fatto che la persona magari poteva inserire un numero negativo e quindi sfasare tutto quanto l'esercizio ma il do while appunto serve per questo ovvero quando richiediamo un valore in input quindi abbiamo chiesto in input n noi dobbiamo controllare che questo valore qua sia positivo in effetti certo potevamo tranquillamente utilizzare un if if n maggiore di 0 allora faceva tutto questo blocco else il valore inserito è negativo quindi non posso svolgere l'esercizio ma io vi ricordo che un algoritmo deve essere efficace ed efficiente efficace bisogna anche renderlo generale quindi deve completare tutti i casi ed è molto più efficace un programma che comunque mi dà una soluzione corretta rispetto a uno che comunque mi segnala certo che c'è stato un errore ma rispetto a quell'altro non avrei un risultato quindi io controllo che la mia n deve essere per forza positiva altrimenti non prosegue ora state attenti perché la maggior parte delle persone fraintende quello che si va a inserire all'interno del do while perché? perché io come ho detto mi servono tutti i valori maggiori di 0 allora io andrò a mettere n minore di 1 perché n minore di 1? io volevo giustamente tutti i valori maggiori allo 0 n minore di 1 quindi richiede tutti i valori dallo 0 compreso in giù ma se state attenti a livello logico ogni ciclo si esegue con condizione vera e infatti è questo il discorso se io inserisco continuamente numeri negativi quindi minori dell'1 che non sono i valori che io accetto continuerà a richiedermi di nuovo in input quindi se io dovessi andare a inserire n uguale a meno 3 dato che è un valore che io non accetto n quindi è minore di 1 è vero me lo richiede se io avessi messo qui n maggiore di 0 quindi continuando quella logica che magari avevamo che può avere una persona nel dire che io voglio solo numeri positivi in questa maniera noi accettavamo solo negativi in pratica perché se io andavo a inserire il 5 il 5 è maggiore di 0 eh sì è vero quindi rinizia nuovamente pertanto state attenti che la condizione deve essere semplicemente al contrario a livello logico umano perché noi volevamo i numeri maggiori però dobbiamo chiederle in maniera contraria state attenti appunto che questa è solo la nostra logica il computer in realtà ragiona sempre sul vero quindi è lui quello che dirà che io voglio avere tutti i numeri negativi per continuare a ciclare perché nel 2 while si invertono si invertono gli operatori logici e di relazione come vedete qui in questo esempio quando io vado a mettere all'interno di un ciclo 2 while nella condizione facciamo finta x maggiore di y gli unici valori che in realtà mi faranno uscire dal nostro ciclo quindi che ci faranno continuare il programma saranno solo i valori minori uguali quindi questo simbolo si inverte in minore uguale il minore si inverte in maggiore uguale maggiore uguale in minore e il minore uguale in maggiore pertanto n minore di 1 mi consentirà di inserire i valori n maggiore uguali a 1 in questa maniera quindi se dovessi mettere un valore di n che sia 1 o superiore il ciclo uscirà e quindi io proseguirò col mio programma la stessa identica cosa succede con l'end e or e not quindi si invertono anche lì se io volessi un numero compreso tra l'1 e il 10 1 e 10 ovviamente compresi dovrei scrivere questa cosa qui n minore di 1 oppure n maggiore di 10 perché questo e non l'end perché semplicemente se provate un attimo a ragionarci se io vado a inserire un numero che sia minore di 1 o un maggiore di 10 sarebbero valori che io non voglio perché io effettivamente vorrei valori che siano minori uguali di 1 e minori maggiore uguali di 1 e minore uguali di 10 quindi che sia compreso no? allora è corretto dire che se io inserisco un numero minore di 1 oppure maggiore di 10 non rientra nel range che io in realtà volevo la stessa cosa funziona al contrario se io avessi voluto valori che erano minori di 1 oppure maggiori di 10 avrei dovuto invertire questa condizione pertanto i valori compresi tra 1 e 10 non sono valori validi per me perché io volevo quelli che erano minori di 1 o maggiori di 10 quindi state attenti perché la nostra logica purtroppo un pochino ci bastona mentre la logica booleana e relazionale all'interno di una condizione quando richiediamo un determinato valore si inverte ma è soltanto per noi in realtà per il computer questa cosa è pur normalissima detto ciò comunque abbiamo il nostro programmino dove appunto se io inserisco in input un valore negativo meno 3 come vedete viene posta la condizione e poiché è vera mi viene di nuovo richiesto il valore quindi io sono obbligato a inserire un numero maggiore o uguale all'1 quindi mettiamo di nuovo 2 continuerà perché ovviamente è falsa la condizione quindi usciamo dal ciclo e qua ci chiede il valore all'interno del nostro for quindi 3 e andiamo poi a rinserire 11 ed ecco qua la nostra somma sarà 14 questa quindi è sostanzialmente la differenza e l'utilizzo di tutti e tre i cicli while while for come ho detto già a fine playlist vedremo poi degli esercizi pratici perché ne porterò state tranquilli se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti cercherò di rispondervi per questo video qua quindi è tutto vi ho massacrati abbastanza penso se non siete iscritti al canale iscrivetevi seguitemi su telegram seguitemi su instagram e noi ci vediamo alla prossima lezione ciao ragazzi iscrivetevi 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 grazie a tutti